I funzionari del controspionaggio americani hanno avvertito all'inizio del 2017 Jared Kuzner, genero e consigliere del presidente Donald Trump, che Wendy Deng Marduk sarebbe un agente della Cina, l'importante donna d'affari e l'ex moglie del magnate dei media Rupert Marduk. A rivelare la notizia è proprio il quotidiano di proprietà di Marduk, il Wall Street Journal. La donna, secondo gli 007, avrebbe usato la sua stretta amicizia con Kuzner e Ivanka Trump per favorire gli interessi del governo cinese. In particolare, sempre come riportato dal quotidiano, l'allarme riguarda le pressioni di Deng sulla costruzione di un giardino da 100 milioni di dollari al National Arboretum di Washington. Il giardino avrebbe dovuto avere una torre al suo interno alta 21 metri la quale sarebbe poi stata utilizzata per spiare il Campidoglio, A8KM in linea d'aria. Un portavoce dell'ex signora Marduk ha affermato che lei non è assolutamente al corrente di nessun progetto di giardini finanziati dal governo cinese. Da parte sua, l'ambasciata cinese a Washington ha definito l'articolo del giornal pieno di lazioni senza fondamento. Inoltre si sottolinea che l'amicizia con i Marduk va avanti da un decennio e non ha nulla a che vedere con la politica e la Cina.